Domenica due importanti manifestazioni della Croce Verde a Torino. La prima in Piazza Castello dalle 10 alle 17 circa è una manovra per la vita organizzata in collaborazione con il reparto di emergenza e pronto soccorso dell'ospedale Regina Margherita, durante la quale verranno mostrate le manovre per disostruire le prime vie aeree ai bambini e ai neonati. La seconda è la cerimonia per i 105 anni di fondazione, alle 10 presso il Teatro Carignano. La GDT ci informa che oggi ci sono deviazioni di percorso sulle linee 45 e 40.